C'è qualcuno nascosto lì? Devi obbedire! Ho la 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 la! Ho la la la! Da! Sì, sarguina per me. L'ho trovato! Battiti con me! Seymour! Fuggii dalla rovina e trovai riparo nelle grotte. Ero già qui quando posarono la prima pietra di Barad-dûr e sopravvivrò alla sua caduta. Sono venuta a godermi il buio. I miei piccoli sono cresciuti e il mio potere si estende fino a Bosco Atro e oltre. Mi portano doni come in passato. Sarò per sempre Shelob, l'ultima della mia razza. Ero già! Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.